io non ho una pancetta non ho una pancetta vai assi di legno resta angelo vieni qua dove stai? io andiamo dimmi vai scambiamo eh scambiate ma scambiamo io e te eh si scambiamo però andiamo le porte dove vuoi si andiamo c'è dammi leader dai sei crato o stai? no no stai stai come è che adonave le pancetta? scusami eh non ce ne ho sei peggio di me sei peggio di me si ma io sei a livello 4 scambiate sei cap width sei peggio sei peggio di dire ok e g mouldare ok gub dai questo nocturno dai cosa da in cambio da una schianta di da 82 poi una rama tempesta al 77 poi 10 di marchi te vuoi meccano raggio solare arcobaleno staglia buia arginite elementari attiva c'è un po tutti i materiali che c'è ok andiamo dentro no 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 alla parte non scambio ci avete tutti tutte le vostre cancrati tipo salti doppi salti veloci che io non ho no io non posso ma io non posso usarli perché sono troppo viola bassa e poi non vedo niente cioè non ci credo non voglio farlo cos'è che non ha aperto c'è da andiamo dentro dove vuoi te alla partita di un posto alla parte dove possa scambiare se vuoi scambiamo ma fai vedere le giorni alle morte scusate io ho fatto venire a te vedere poi alberto anche non ho un po e tu non hai visto le mie però è bruno mi fido c'è mica tu vabbè è fatto a truffare come cosa va bene sicuramente dove vuoi scambiare come vuoi tu e tanto io mi fido dentro andiamo dentro dammi un permesso per piacere no guarda o sera allora abbiamo detto scambio di gold 82 82 82 82 per questo per questo per il nocturno che mi dai lo scambio di che si stava dicendo poi poi potenza lama tempesta strade di costante due di potenza lama tempesta poi uno di raggio salare un arcobaleo una scala buia dieci di marachite due attivacelle dieci di lame 20 elementari 20 eroginite e cinque di sparo mincia allora metti già vicino di legno che mi servono ah vuoi altri di legno quanti non vuoi tira uno stacco ok tira uno stacco ok dammi fai cosa fai dammelo no 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 dammelo cosa yes di legno ti è forza amazon guarda ah l'ho fatto apposto bravo 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 ti sei preso il notturno ecco raga eccoli di alberto 65 alberto 65 vado su youtube raga bella sono su divento famoso raga divento famoso si vede tutto a scrivermi raga sì sì bella grandi raga prego bro ciao guarda guarda cc per te ma sei felice dico il notturno c'è ti piace eh livello 4 gli piace tanto cioè sì il fatto bello è che ha detto mi scoccio i truffatori non i truffatori già so che mi truffi ah sei ridicolo sei ridicolo sei ridicolo ah è bella bro alberto 65 alberto s 65 non scambiate con lui adesso lo faccio facciare anche dalla comunità salva il mondo così non scambia più con nessuno ti metti a scambiare con i colacchi nelle missioni che che ci ci sf bello ci si vi Giii!